buongiorno a tutti benvenuti amici di yogare sono qui per una nuova lezione per portare oggi un po di radianza a tutti voi sarà una pratica intensa divertente e vi auguro di divertirvi insieme a me inapriti inarca apri bene il petto sollevi la gamba destra fletti il ginocchio se riesci qualche colpo in kapalabhati respiro con l'addome in dentro ogni volta che espiri lo respiro forte dinamico piede a terra adho mukhajvanasana mantieni in istante la posizione e poi sposti ancora il peso in avanti ruoti sul lato destro sovrappone i piedi serve il braccio sinistro guardi in alto la mano 5 porta il ginocchio sinistro verso il petto verso la fronte distendi la gamba inspira espira di nuovo ginocchio al petto e piede sinistra a terra tallone destro rimane sollevato mano destra a terra braccio sinistro apri verso l'alto mantieni senti la dolce torsione la spina dorsale 1 2 porti il fianco destro indietro 3 senti 4 e andiamo ad agganciare l'alluce sinistro con indice medio pollice portiamo tutta la pianta del piede destro a terra iniziamo a salire da lì andiamo di stendere tutte e due le gambe se riusciamo restiamo agganciati 1 vasci stasana 2 3 4 e lasci andare la gamba a terra dietro sollevi la gamba sinistra inspirando e ispirando fletti il ginocchio porti la caviglia sinistra sopra il ginocchio destra avvicini un pochino al piede destro se hai bisogno in questa variante poi scendo chaturanga inarco inarco bene espira cane giù riporto tutte e due i piedi a terra mi osservo sento come mi sento grazie grazie grazie